Musica Confermate le anticipazioni della vigilia, dopo due mesi di restrizioni le marche da lunedì torneranno in zona gialla. Il coprifuoco alle 22 non piace a nessuno, ma il governo tira dritto. Si sta un po' togliendo la nostra libertà, nel senso ai nostri momenti migliori, penso. Riapre il Teatro della Fortuna a Fano con il concerto del violinista di fama internazionale Francesco Dorazio. L'incendio alla Profil Glass di Bellocchi di Fano. Le analisi dell'ARPAM confermano nessun pericolo per la salute pubblica. Valori dell'acqua e dell'aria nella norma. La Proloco di Fano aderisce all'iniziativa di raccolta fondi per Telefono Azzurro. Sabato e domenica i volontari saranno nel centro storico, in contemporanea ad altre 1700 piazze italiane. Occhio alla notizia. In studio, Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale. Occhio alla notizia dunque ufficiale. Le Marche da lunedì torneranno in zona gialla e in vista delle riaperture si lavora per garantire il rientro in classe del 70% degli studenti delle scuole superiori. Poi c'è una precisazione, come vedremo, del vicepresidente della regione Mirco Carloni che si rivolge ai ristoratori chiedendo, dicendo loro, che potranno lavorare all'aperto e soprattutto come lavorare all'aperto. Ma vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Dopo quasi due mesi di restrizioni, le Marche sono pronte a lasciare la fascia arancione. Ad annunciare l'ufficialità sul profilo Facebook è stato il governatore Francesco Acquaroli che ha ricevuto la chiamata del ministro Speranza. Infatti la cabina di regia ha valutato i dati in costante miglioramento e ha deciso di riportare la nostra regione in zona gialla a partire dal lunedì 26 aprile. Sia i ricoveri che i contagi sono in diminuzione, così come l'indice RT che nelle ultime settimane è sceso al di sotto dell'1. Negli ultimi giorni addirittura si è attestato attorno allo 0,80. Il passa da zona gialla ora consentirà di allentare le misure anticontagio ma senza abbassare la guardia. I bar e i ristoranti saranno attivi soltanto all'aperto, gli spostamenti saranno consentiti tra i comuni marchigiani e tra regioni dello stesso colore e si tornerà in classe. Per le superiori però il governo ha stabilito la didattica in presenza da almeno il 70% e fino al 100% degli alunni e oggi ad Ancona si è svolta una riunione convocata dall'ufficio scolastico regionale. Nell'incontro è stato deciso di confermare il rientro in classe al 70% per le scuole secondarie di secondo grado delle province di Ascoli e Fermo, invece per le altre province è prevista una copertura del servizio di trasporto al 60% e quindi la regione si appella ai singoli istituti che in base all'autonomia organizzativa potranno raggiungere la quota di presenza stabilita. Qua entra in gioco l'autonomia scolastica perché ci sono delle situazioni di istituti dove ci sono ragazzi e studenti che sono vicino alle scuole e che poi utilizzano anche mezzi propri per andare a scuola, quindi non è detto che questa percentuale al 60% del trasporto pubblico incida poi effettivamente sulla presenza degli istituti scolastici. Per la provincia di Pesero Urbino poi nel pomeriggio si è svolta una riunione con il Perfetto. Il direttore di Adria Bus Massimo Benedetti ci ha fatto sapere che l'azienda aumenterà il servizio offerto incrementando i mezzi pubblici così da garantire un aumento di almeno 10% dell'utenza trasportata ma all'interno degli autobus comunque la capienza rimarrà del 50%. Poi saranno le scuole ad individuare gli alunni che non utilizzano i trasporti pubblici e che quindi potranno recarsi a scuola con mezzi alternativi. Inoltre altre precisazioni ci sono arrivate dal vicepresidente e assessore al commercio della regione Mirko Carloni. Infatti in questi giorni sono state tante le richieste di informazioni da parte di gestori e titolari di locali che dal lunedì potranno lavorare all'aperto a pranzo e a cena. E questa mattina abbiamo ricostruito una interpretazione che stiamo mandando a tutte le associazioni di categoria, ai comuni, in modo da dare un'interpretazione chiara e univoca. Per quello che mi hanno preparato gli uffici su cui abbiamo condiviso una visione che all'aperto significa dove c'è anche una struttura che sia però aperta su almeno tre lati dove si sia un dehors, un loggiato, un porticato, una veranda, può essere considerato l'aperto. Ecco, speriamo che questo chiarimento serva a rendere un po' più semplice questa riapertura per molti bar e ristoranti che attendevano un'ulteriore chiarezza sull'argomento. Allora, come avete sentito dal servizio, sono in leggero calo, sono in calo, anzi i contagi, i ricoveri, il leggero calo, anche i decessi che nelle ultime 24 ore però sono sempre comunque un certo numero, 8 nelle ultime 24 ore. Tra le vittime ci sono anche due persone residenti nella provincia pesarese, i nuovi positivi invece sono 326. La provincia più colpita è quella di Ancona con 88 casi, seguita da Peso Rubino con 79, inoltre si registra un altro calo dei ricoveri negli ospedali della regione dove 21 pazienti in meno ci sono rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva scendono a 70, mentre quelli in semia intensiva, come vedete dal cartello, 153. E fa discutere la scelta del governo Draghi di mantenere il coprifuoco alle 22. Oggi, questa mattina, Angelica Panzieri ha fatto un giro a Pesaro per sentire un po' gli umori della gente. Anche se le marche torneranno in zona gialla da lunedì 26 aprile, il coprifuoco fino alle 22 resterà comunque. Siamo andati a sentire il parere dei cittadini rispetto a questa decisione presa dal governo Draghi. Il coprifuoco resterà alle 22 anche nelle zone gialle, fino a quando? La prima data fornita dal governo è stata quella del 31 luglio, ma lo stesso Premier Draghi ha assicurato che verranno valutate delle modifiche sulla base dell'andamento epidemiologico. Non è certo dunque che si debba fare i conti con questa restrizione per buona parte dell'estate. Intanto però a Pesaro la decisione del governo divide i cittadini tra coloro che sono contrari al coprifuoco alle 22 e che lo abolirebbero anche da subito e chi invece ritiene che sia ancora necessario anche per i prossimi mesi. Avrei preferito un'oretta in più, forse sarebbe stato meglio, però alle 11 poi effettivamente controllare se troppi ragazzi sono quelli che preoccupano di più, quindi per me andrebbe meglio così. Si sta un po' togliendo la nostra libertà, nel senso i nostri momenti migliori penso, cioè avere 20 anni e stare a casa non è il massimo. Quindi almeno allungarlo di un'ora? Sì, sicuramente sì, cioè per lasciarci un po' di spazio, perché tanto si può fare niente. Personalmente non sono molto d'accordo, non si esce dopo cena quando invece è la vita l'estate. Cioè non lavora più nessuno, cioè come fai ad andare a cena fuori alle 10 di sta a casa, ma anche noi, poi uno se vuole uscire esce anche prima. Io sono d'accordo, sono d'accordo. Lei è per il copripuoco e per mantenere? Sì, perché c'è troppa confusione in giro. Lei che cosa mi dice invece? Per me è uguale, io sono sempre dentro casa. Sono favorevole perché il rischio di contagio è molto elevato, quindi poco a prendere atto della situazione. Io comprendo che ci sono delle categorie fortemente penalizzate, però di fronte a quello che può essere un disastro, è meglio prendere delle misure preventive. Secondo me alle 11 poteva andare anche bene, però ci sono sempre le persone che dopo allungano. Poteva anche arrivare fino alle 11, cioè non cambia. Però dopo tutti a casa. Almeno fino a mezzanotte, perché tanto si raggruppano comunque in ogni casa, anzi fanno peggio secondo me. È dura per tutti, lo trovo un pochino sbagliato onestamente. Sbagliato, poi difficile dire giusto o sbagliato. Sicuramente è impensabile vivere l'estate in questo modo, poi vedremo come andrà. Magari cambiano idea, dai. Già, magari cambiano idea. Intanto però ci sono manifestazioni che sono state inserite in calendario, come a Fano Passaggi Festival, che con un coprifuoco alle 22 chiaramente si vede abbastanza discriminato. Ed è per questo che gli organizzatori oggi hanno scritto di ripensare da subito agli orari del coprifuoco. L'hanno scritto in una lettera inviata al Premier Draghi, ai ministri, agli amministratori locali. Gli organizzatori fanno riferimento anche alle ricerche scientifiche in base alle quali il contagio all'aperto è un pericolo remoto. Lo 0,1% e cioè un caso su mille. Il coprifuoco, si sa, che sia alle 22 o alle 23, spiegano i promotori, impedisce l'organizzazione degli eventi culturali all'aperto, che in estate si svolgono in orari serali. Attività dove si entra con la prenotazione, si indossa la mascherina, si sta seduti e distanziati e le file d'ingresso sono controllate da personale formato. Si trova il modo, hanno concluso nell'appello gli organizzatori di passaggi festival, per non chiudere il paese, per non soffocare l'economia e per non uccidere la cultura negli spazi aperti. Ed è contraria al coprifuoco delle 22 anche la Confu Commercio di Fano. È un'assurdità, ha commentato la Presidente Barbara Marcolini. Per i negozi sarà impossibile aprire la sera e così facendo non renderemo un bel servizio né alla città né ai turisti. Anche la mancata realizzazione di eventi estivi non favorirà le attività già compromesse da mesi di inattività. Inoltre, Confu Commercio è preoccupata per i lavoratori stagionali, in gran parte giovani, che non troveranno occupazione a causa delle limitazioni. Noi siamo esausti di pagare colpe non nostre, ha concluso Marcolini, come la lentezza della campagna vaccinale e l'impossibilità di controllare il territorio punendo comportamenti scorretti. Intanto, grazie alla zona gialla, dal lunedì riaprono i battenti anche i luoghi della cultura. In primis affano il Teatro della Fortuna, che riparte con un concerto del violinista di fama internazionale Francesco Dorazio. Con l'imminente ritorno in zona gialla riparte anche il mondo della cultura. Riaprono i musei, cinema e teatri che rispettando i protocolli di sicurezza potranno sfruttare la metà della loro capienza, posti a sedere preassegnati, dunque distanze di almeno un metro, salvo per i conviventi. Anche a Fano, dopo mesi di chiusura, il Teatro della Fortuna torna ad aprire le porte, ospitando il violinista di fama internazionale Francesco Dorazio. Il concerto si svolgerà il 26 aprile dalle 19 alle ore 20, mentre i biglietti ad un prezzo simbolico di 5 euro potranno essere acquistati online su Viva Ticket oppure al botteghino domani, domenica e lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Stando alle norme anticontagio, il teatro potrà accogliere 245 persone. Eravamo pronti, siamo pronti, ci proviamo. La speranza è che poi, insomma, anche tra le mille difficoltà e con le limitazioni che ci saranno, però veramente di non richiudergli più i teatri, perché è stato un periodo troppo difficile, ma non solo per vedere il teatro vuoto, perché noi comunque dentro lavoravamo, perché noi abbiamo dovuto lasciare a casa tante delle maestranze, i tecnici, le maschere, i collaboratori. Veramente è stato un anno difficile, molto difficile, ma ecco, questo è un settore che però non si è mai perso, ha continuato a programmare, poi è servito purtroppo a poco, perché abbiamo dovuto cancellare. Però, ecco, abbiamo sempre, non solo a Fano, dico tutti i teatri, si è sempre cercato di essere pronti, se, come adesso, in qualche maniera, ci è dato la possibilità di ripartire. Con dei numeri un po' piccoli, per quanto riguarda il nostro teatro, però intanto ripartiamo. E la Fondazione ha già programmato anche tutti gli spettacoli fino alla fine dell'anno, sia per la sinfonica, che per la prose e la lirica, prevedendo diverse modalità di svolgimento, dallo streaming alla capienza ridotta. Intanto, lunedì, ha commentato il presidente dell'orchestra sinfonica Rossini, Saul Salucci, siamo orgogliosi di ricominciare con un artista straordinario. Ha accolto il nostro invito Francesco Dorazio, uno dei violinisti più importanti al mondo, vincitore del premio Abbiati, ed è succeduto a Salvatore Accardo, e sarà con noi per un concerto di ripartenza all'insegna di Mozart e Tartini, quindi due grandi compositori, uno straordinario solista, che è di fatto un abbasciatore italiano nel mondo, e quindi siamo davvero contenti di questo concerto di ripartenza, per avere questo grande solista, e per i nostri professori, che torneranno a suonare con i propri spettacoli. spettatori in presenza. Torniamo a parlare dell'incendio che è divampato il 13 aprile scorso alla Profil Glass di Bellocchi di Fano, perché dalle analisi dell'ARPAM, sia sulla qualità dell'aria, sia su quella delle acque, non sono emerse criticità. Tiriamo un sospiro di sollievo dalle analisi dell'ARPAM, non sono emerse anomalie. L'assessore all'ambiente Barbara Brunori oggi è tornata di fronte all'ingresso della Profil Glass a Bellocchi di Fano, per rassicurare la cittadinanza. Infatti, dopo l'incendio avvenuto nell'azienda, il 13 aprile scorso, nel reparto dei rottami di alluminio, sono stati eseguiti gli accertamenti per indagare sull'impatto ambientale, collegato al ruogo e alla colonna di fumo che si era alzata su un quartiere. Fortunatamente gli esiti sono tutti sotto controllo e non ci sono dei parametri preoccupanti, anzi, proprio è stato escluso il pericolo, perché nello stesso momento in cui è accaduto proprio l'incendio, come ufficio ambiente, ci siamo da subito azionati nel chiamare ARPAM, che tempestivamente è venuto, e ha messo due campionatori a fiale di carbonio, per quanto riguarda le sostanze volatili, in due tipi di controllo. Il primo, nello stesso giorno dell'incendio, dalle 10 e dalle 7 della sera alle 10, e il successivo, dalle 10 della sera alle 10 del giorno dopo. Da entrambi i campionamenti, per quanto riguarda le sostanze organiche volatili, non sono emerse criticità, nel senso che sono tutti parametri che all'interno di una zona industriale come questa, naturalmente sono parametri accettabili e nei limiti. Inoltre, prosegue l'assessore, abbiamo analizzato le acque che scorrono in mezzo allo stabilimento, e nelle vicinanze le indagini sono state eseguite sia sul fosso di Carrara, che raccoglie le acque meteoriche, sia su una parte del canale Albani, ma anche qui non sono emersi valori critici. Per quanto riguarda anche la centralina dell'aria di Via Filippini, quella che rileva le polveri sottili, naturalmente quella è stata una centralina, mi sento di dire, non interessata, in quanto, ahimè, il vento, nel caso dell'incendio, spirava verso nord e quindi non è riuscita a registrare i dati, diciamo, dell'incendio, perché era esattamente dalla parte opposta, tanto che tutti i dati delle polveri sottili erano nella norma e non hanno subito nessun tipo di variazione. Diamo spazio adesso alle vostre segnalazioni. Andiamo a vedere questa immagine, questa fotografia che ci ha inviato un nostro reporter di strada. Siamo sulla strada comunale di Monte Giove, dove questo reporter di strada ci ha segnalato una discarica a cielo aperto. È la strada che conduce al prelato. Come vedete a queste fotografie, qualcuno ha abbandonato grossi sacchi della spazzatura con all'interno vecchi pezzi di amianto, un materiale che potrebbe essere pericoloso, sia per la salute dell'uomo, se le fibre si disperdono nell'aria, sia per l'ambiente. E la Proloco di Fano ha aderito alla raccolta fondi promossa da Telefono Azzurro, per aiutare i bambini e gli adolescenti. Sabato e domenica i volontari saranno nel Centro Storico di Fano per l'iniziativa che si svolgerà in contemporanea in altre 1700 piazze italiane. Coltiva il seme della speranza insieme contro la paura. Con questo slogan Telefono Azzurro torna anche quest'anno, con la manifestazione solidale denominata Fiori d'Azzurro, un evento che vuole rappresentare la ripartenza dell'Italia a cominciare dall'infanzia. Questo fine settimana in 1700 piazze d'Italia, migliaia di piante fiorite verranno distribuite dai volontari di tante associazioni per raccogliere i fondi necessari a sostenere il piano di sviluppo, di ascolto e di intervento in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Infatti nel nostro paese l'emergenza sanitaria ha portato a un incremento delle richieste di aiuto da parte dei ragazzi. Le sofferenze e le privazioni che hanno vissuto a causa della pandemia sono state spesso drammatiche, ma Telefono Azzurro è sempre stato in prima linea per dare a tutti un supporto concreto e immediato anche con linee di ascolto attivate tramite applicazioni e social network. Romila, anche la Proloco di Fano scende in campo? Certamente, anche noi della Proloco non potevamo che non sposare l'iniziativa di Telefono Azzurro per aiutare i bambini in difficoltà. Scenderemo in campo qui, saremo qui in piazza Omiccioli il 24-25 aprile, quindi sabato e domenica, dalle 8.30 a 9 della mattina fino a mezzogiorno e 30, dalle 16 alle 19.30. Mi raccomando, aiutiateci, aiutiamoci, arrivate numerosi. In che cosa consisterà esattamente l'iniziativa? Allora, noi daremo una piantina, una bellissima piantina colorata a fronte di una donazione e inoltre ci sarà questo materiale informatico che saranno due riviste, Azzurro Child e una guida alla cittadinanza digitale importante anche per l'informazione digitale per i bambini, i ragazzi e i adolescenti. Inoltre sarà un servizio telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero 1-9696 perché è importante tutelare comunque sempre i bambini che comunque in questo periodo comunque stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Diocesi, Comune, Fondazione Carifano insieme per rendere omogenea la proposta culturale. Si è svolto questa mattina un incontro tra il Vescovo di Fano, Armando Trasarti, il Sindaco Massimo Seri e il Presidente Giorgio Gagnola per valorizzare il patrimonio cittadino. A breve infatti verrà firmata una convenzione che permetterà di facilitare l'accesso al patrimonio culturale da parte del pubblico. Tra gli obiettivi c'è anche quello di realizzare un polo museale urbano con un'unica biglietteria all'interno del quale verranno organizzate mostre ed eventi in un programma che non preveda sovrasposizioni. Adesso l'album di Fano TV per fare gli auguri a una coppia che sta insieme da 54 anni. festeggiano Emilio Rosati e Silvia Carboni. A loro gli auguri dei parenti ma anche di tutti noi di Fano TV. Vi ricordo che lunedì prossimo sarà ospite di Primo Cittadino con Simona Zunghetti, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Questi sono i contatti, i numeri di telefono per fare domande al Primo Cittadino di Pesaro. Tra poco le previsioni del tempo, poi la programmazione di Fano TV domani mattina alle 7 invece ci ritroveremo per commentare le pagine dei giornali all'interno di Occhio ai giornali. La rassegna stampa. Arrivederci.